quante volte vi hanno detto beh basta cercarlo su google basta cercarlo su internet ma siete veramente sicuri di saper utilizzare al meglio un motore di ricerca scopriamolo insieme la prima cosa che facciamo generalmente è andare su google o su un altro motore di ricerca e scrivere direttamente qua la nostra parola da ricercare in rete supponiamo che io voglia fare una ricerca sul panda l'animale clicco panda e vengono inviato ad una pagina che però contiene sia come vedete le immagini del del panda animale ma anche dell'auto e inoltre i risultati di ricerca che sono circa 547 milioni che google in questo caso ha trovato in meno di un secondo contengono sia informazioni sul panda sia ovviamente sull'auto allora come posso fare per filtrare queste informazioni io voglio informazioni solo ed esclusivamente sul panda molti non sanno che cliccando su strumenti è possibile già fare una prima azione di filtro rispetto alle pagine che ci vengono presentate quindi è possibile visualizzare solamente pagine che vengono dall'italia pagine solo in italiano e che siano state pubblicate ad esempio nelle ultime 24 ore oppure nell'ultimo anno ma questo non ci aiuta devo andare sulle impostazioni ed andare su ricerca avanzata andando su ricerca avanzata come vedete verrà ripetuta la parola che io avevo già cercato in precedenza ma ho a disposizione tutta una serie di campi che mi aiuteranno a trovare solo le pagine che mi interessano quindi se vado per esempio su nessuna di queste parole e io comincio a scrivere per esempio fiat auto o automobile già facendo questa prima operazione cliccando poi su ricerca avanzata vedrò apparire una serie di pagine che come vedete riguardano il panda gigante e anche il panda minore e sono sparite praticamente tutte le le pagine che avevano a che fare con l'automobile un'altra cosa molto utile che non tutti conoscono oltre a i campi che vedete qua sopra che vi permettono di cercare delle parole esatte anche queste richiuse tra le virgolette oppure cercare una parola tra due indicate cercare una serie di intervalli che possono essere numeri anni prezzi dicevo una cosa molto interessante è quella del ricercare un documento per tipologia di file quindi se io vado qua su tipo di file e seleziono per esempio pdf troverò tutti documenti pdf che hanno a che fare con il nostro panda proviamo ad aprire uno dei di questi pdf che come vedete sono indicati da questa casellina pdf prova ad aprirlo come vedete si sta aprendo un pdf che parla per l'appunto del nostro panda